ben arrivati al momento live social di villa cornaro incontriamo in questo spazio artisti e professionisti che operano nel mondo della villa veneta villa cornaro oggi siamo con la signora signorina deliziosa marta modina ben arrivata grazie giampietro ci viene spesso a trovare perché fa degli incontri aziendali molto interessanti per il gruppo hop o meglio dimmi come si pronuncia come si scrive allora si pronuncia up si scrive h o o p e significa cerchio di che cosa si occupa il gruppo allora up si occupa di formazione e di gestione e creazione di luoghi potenzianti a disposizione del piccolo imprenditore del libero professionista questo è il nostro cliente ideale sono quelle realtà numerosissime in italia perché su 4 milioni e 400 mila partite iva dati istat dell'ultima dell'ultimo report uscito 4 milioni e 180 mila di questo di questo gruppo totale sono proprio le persone a cui noi ci rivolgiamo e sono sostanzialmente quelli che compongono il tessuto socio economico italiano sono tutti accumulati o la maggioranza di loro è accumulata da una serie di problemi legati alla necessità voglia di crescita del proprio fatturato del proprio parco clienti disorganizzazione però nello svolgimento della loro attività sono molto spesso capaci e competenti nel loro lavoro ma lontani e non consapevoli di tutte le altre attività le altre sfere di attività necessarie a completamento della propria della propria del proprio progetto della propria missione noi offriamo sostanzialmente un percorso di formazione che ha come obiettivo la creazione di consapevolezza all'interno di tutte quelle tematiche che sono ormai fondamentali per chi conduce un'azienda che conduce un progetto imprenditoriale in proprio che acquisita questa consapevolezza acquisite queste informazioni di base aiutano nel momento in cui si deve decidere si deve scegliere si deve progettare per se stessi e per la propria attività un percorso appunto di crescita. Offriamo alla persona che rappresenta l'azienda, l'imprenditore, il professionista un percorso degli argomenti di crescita personale, evoluzione personale particolari dove poniamo molta attenzione alla spiritualità. Spiritualità intesa in che senso? Spiritualità intesa come amore, applicazione di amore per quello che è il lavoro, il nostro lavoro e verso gli altri, cioè gentilezza, amore, coraggio, tutte cose che cerchiamo non solo di trasferire come valori ma anche di mettere in pratica. Li mettiamo in pratica anche offrendo ai nostri clienti dei luoghi, la nostra è una community, quindi offriamo dei luoghi di esercizio delle competenze acquisite nel nostro percorso luoghi dove poter trasferire competenze, informazioni, esperienze dove i problemi comuni messi su un tavolo possono essere insieme risolti grazie appunto al know-how che ognuno ha all'interno del suo percorso personale imprenditoriale e questo per attivare veramente la collaborazione, la condivisione e tenere insieme il gruppo, le persone, facendole però lavorare con un metodo, con una struttura per un obiettivo condiviso. Quindi possiamo dire che uno parte dalla professione ispirata dalla passione, voi andate a stimolare ancora di più la passione dando anche gli strumenti ottimali per le soluzioni professionali. Assolutamente sì perché tocchiamo argomenti come dicevo molto più introspettivi, molto più legati alla crescita e all'evoluzione della persona, dell'imprenditore per poi comunque affrontare anche tematiche di natura più pragmatica, più specifica e più tecnica che poi guidano e aiutano a decidere in tutte quelle aree di competenza di chi ha un'attività. Dalle tue indicazioni abbiamo capito che gli incontri che fate in Villa Cornaro servono per rapportare o rapportarsi più imprenditori, più professionisti tra loro affinché possano scambiarsi le loro esperienze e quindi arricchirsi tra loro. Ho capito bene? Hai capito perfettamente, è proprio così. Bene, è stata una bella esperienza. Oggi abbiamo conosciuto Marta Modini del gruppo Hoop che è di Torino, giusto? Ivrea. Ivrea che è in provincia di Torino? Assolutamente sì. Che è un piccolo paesino? Sì, una piccola cittadina, paese di Polivetti. Storica anche per il Carnevale una volta, ancora così? No, ancora, ancora. Ancora così, bene. E arrivederci alla prossima puntata, intanto grazie ancora. Grazie a te. Ciao, ciao, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.